Come molti di voi sapranno è attualmente in corso il sinodo della Chiesa Cattolica, il sinodo sulla sinodalità, un momento di radicale ripensamento cui la Chiesa Cattolica, guidata da Jorge Mario Bergoglio, si sta sottoponendo. Più nello specifico, in questi giorni si sta svolgendo un ritiro spirituale predicato dal frate dominicano Timothy Radcliffe, nel cui aspetto peraltro traspare una studiata, ostentata, quasi sciatteria e trasandatezza, ma tant'è. Secondo quanto riportato dall'agenzia di informazione SIR, il 9 di ottobre padre Radcliffe avrebbe dichiarato Tante persone si sentono escluse o emarginate nella nostra Chiesa perché abbiamo applicato loro etichette astratte, divorziati, risposati, gay, poligami, rifugiati, africani, gesuiti. Ora, a parte il caleidoscopio di etichette malamente giustapposte, un quacervo di cui non si capisce bene lo spirito, quello che colpisce di più è ciò che lo stesso padre Radcliffe ha dichiarato il giorno dopo, rispetto a questa sua dichiarazione, cioè il 10 ottobre, quando ha pronunciato le seguenti parole Sono bianco, occidentale e uomo. Non so che cosa sia peggio. Ora, se anche non volessimo affrontare questa dichiarazione per ciò che realmente significa, alla luce della retorica, del politicamente corretto, della cancel culture, di cui evidentemente queste dichiarazioni o dichiarazioni di questo tipo sono una testimonianza, Ecco, qui si tratta probabilmente di mettersi d'accordo con se stessi sulla opportunità o meno di categorizzare la realtà umana, di categorizzare attraverso delle etichette gli esseri umani Perché non si capisce perché le etichette non vadano bene quando siano riferite ai poligami, ai gay, agli africani e ai gesuiti E invece, a quanto pare, siano addirittura da interpretare come un vero e proprio stigma quasi morale addirittura Quando vengono applicate a chi è bianco, a chi è occidentale e a chi è uomo È una questione di buonsenso e forse più profondamente una questione di coerenza logica Un vecchio principio di questa disciplina, la logica, che appare sempre più minacciata nei nostri tempi Un vecchio principio di questa disciplina, la logica, che appare sempre più profondamente una questione di questo tipo di corso